Fusaro, cos'è un paese che fa da sé, che non vuole che ci sia Costelvo il turno a Milano? Dunque, è un paese in difficoltà evidentemente, però mi lasci dire molto rapidamente, già che noi che facciamo filosofia ci occupiamo dell'essenza e delle cause, che cos'è l'immigrazione di massa a cui stiamo assistendo in questa fase storica? Tre cose essenzialmente. In primo luogo, giova al potere, ai signori della mondializzazione capitalistica, perché garantisce un abbassamento dei costi della manodopera. Se l'immigrato fa 5 euro all'ora ciò che l'italiano fa 10, è evidente che poi costringerà anche l'italiano a fare a 5 ciò che prima faceva 10. Quindi Marx direbbe l'esercito industriale di riserva nelle mani del capitalismo e nella lotta di classe. Secondo punto, l'immigrazione serve a fare in modo che il conflitto resti proiettato nell'orizzontalità del conflitto fra servi, tra disoccupati italiani e disoccupati migranti, e non salga mai verso l'alto, cioè verso i signori stessi del mondialismo e della finanza. Terzo punto, la migrazione come deportazione di massa, oggi in atto, serve esattamente a imporre un nuovo profilo antropologico, quello dell'homo migrants, del disoccupato. I migranti, proprio come i nostri giovani, sono precari, non occupano un posto fisso, sono costretti a essere delocalizzati, spostati secondo i flussi del capitale e dei suoi movimenti sradicanti. Ecco in quale senso possiamo dire che la immigrazione di massa oggi è una deportazione di massa e lasciatemi dire, il nemico non è il migrante, che è anzi un nostro, come dire, amico con cui dobbiamo cercare di stringere rapporti di solidarietà conflittuali contro il potere. Il nemico non è chi fugge, ma chi costringe a fuggire. Il nemico non è chi è disperato, ma chi getta nella disperazione la gente. Il nemico, lasciatemi dire, non è chi migra, ma chi costringe i popoli, compresi gli italiani, a migrare, seguendo le logiche sradicanti della mondializzazione. Cioè tutti d'accordo qua con Fusaro, con la filosofia di Fusaro. No, Fusaro, guardi, lei lo deve conoscere meglio.